Nel nostro mondo, denso di distrazioni e preoccupazioni incessanti, è comune cadere nella trappola del pensiero eccessivo. Marco Aurelio, il rinomato filosofo stoico e imperatore romano, ci ha illuminato su una verità fondamentale. Il controllo sulla nostra mente è nelle nostre mani. Sebbene non possiamo influenzare gli eventi esterni, possiamo gestire le nostre reazioni e il modo in cui elaboriamo tali eventi nella nostra sfera mentale. Se stai visitando il mio canale per la prima volta, ti prego di sostenermi iscrivendoti e mettendo un mi piace al video. Questo mi consentirà di continuare a produrre contenuti simili in futuro. Ti invito a restare fino alla fine di questo video, dove riceverai l'ultimo consiglio per superare il sovranalisi. Questo consiglio ti porterà a riflettere profondamente sulla tua vita fino a questo momento, offrendoti una rivelazione che trasformerà la tua prospettiva sul tuo percorso personale. L'esperienza comune di una mente piena di rumore e pensieri incessanti è qualcosa che tutti condividiamo in qualche momento della nostra vita. La frustrazione di essere intrappolati in un ciclo infinito di rimuginazioni, l'indecisione che ci paralizza e la sensazione di essere sopraffatti dall'analisi costante sono sfide che molti affrontano. Il problema del pensiero eccessivo è che ci intrappola in uno stato di preoccupazione costante per il futuro o il passato, invece di permetterci di godere pienamente del presente. Ci troviamo intrappolati in un vortice che ci impedisce di prendere decisioni chiare e vivere con serenità. Cambia la tua prospettiva verso la gratitudine. Le nostre menti possono essere ingannevoli. Spesso ci conducono in un labirinto di sovranalisi su ciò che ci manca, su cosa potrebbe andare storto o su ciò che non abbiamo ancora realizzato. Questo è un ciclo infinito che può lasciarci esausti e insoddisfatti. Il pensiero eccessivo spesso nasce da un focus sugli aspetti negativi o su ciò che non è ancora accaduto nella vita, oscurando le cose buone che sono già presenti. Seneca disse una volta che la vera felicità è del presente, senza dipendere ansiosamente dal futuro. Questa perla di saggezza stoica ci esorta a cambiare la nostra prospettiva dalla carenza all'abbondanza, dal sovranalisi alla gratitudine. Si tratta di apprezzare il valore del momento presente e delle molteplici benedizioni spesso trascurate mentre ci perdiamo nelle preoccupazioni per il futuro. La pratica della gratitudine ci libera dalle trappole dei nostri pensieri e ci stabilisce saldamente nel ricco terreno del presente, dove la vita si svolge realmente. Per avviare questo cambiamento, inizia riconoscendo tre cose per cui sei grato ogni giorno. Non devono essere grandi gesti, ma sinceri e autentici. Possono essere semplici come una deliziosa tazza di caffè, la comodità della tua felpa preferita o un messaggio da un amico. Questa pratica modesta può distogliere la tua mente dal ciclo di sovranalisi, portandola verso un sentimento di gratitudine per ciò che è presente nella tua vita in questo momento. Ancorandoti nella gratitudine, non solo stai silenziando il rumore del pensiero eccessivo, ma stai anche arricchendo la tua esperienza quotidiana. La gratitudine magnifica il positivo nelle nostre vite e può trasformare lentamente il nostro dialogo interno da uno di scarsità a uno di abbondanza. Con il tempo, questa nuova prospettiva può cambiare il modo in cui affronti le sfide della vita, trasformandole in opportunità per riconoscere e apprezzare ancora di più ciò che è già buono nel tuo mondo. Non si tratta solo di sentirsi meglio nel momento presente, ma di costruire una base di contentezza che può sostenerti nelle inevitabili alti e bassi che la vita ti presenta. Accetta l'impermanenza e impara a lasciare andare. Diciamo cielo, spesso le nostre menti rimangono intrappolate in un ciclo, ripensando a eventi passati o preoccupandosi per il futuro. Questo è il campo di gioco del pensiero eccessivo, dove i pensieri diventano appiccicosi e persistono più a lungo del necessario. È una sfida che non fa distinzioni, colpisce gli studenti preoccupati per gli esami, i professionisti stressati per le presentazioni o chiunque cerchi di addormentarsi mentre la mente corre a mille all'ora. In mezzo a questa maratona mentale, possiamo trovare conforto nelle parole di Epicuro, il quale ci dice che chi teme la morte non farà mai nulla che valga la pena per un uomo che è vivo ora. Sebbene questa citazione possa sembrare un po' pesante, in realtà riguarda il concetto di impermanenza, fondamentale per l'osteicismo. Tutto cambia e questo include i pensieri che sembrano così persistenti nelle nostre menti. Quando pensiamo troppo, spesso ci aggrappiamo ai nostri pensieri come se fossero elementi permanenti nella nostra vita. Accettare l'impermanenza implica comprendere che i pensieri vanno e vengono, non sono eterni. Questa comprensione può essere un faro di speranza quando ti senti intrappolato dal pensiero eccessivo. Praticamente, accogliere l'impermanenza significa coltivare l'abitudine di lasciar andare. È una sorta di pulizia mentale in cui liberiamo consapevolmente i pensieri che non ci servono. Puoi farlo immaginando un fiume in cui ogni pensiero è una foglia sulla superficie dell'acqua che si allontana, oppure vederli come nuvole sempre mutevoli che si formano e poi si disperdono. Questa visualizzazione non solo fornisce un sollievo immediato, ma inculca anche una comprensione più profonda del fatto che la natura del pensiero è il cambiamento. Integrare questa pratica nella tua routine quotidiana può trasformare il tuo rapporto con i pensieri. Lasciare andare non è arrendersi, è un atto di coraggio. Significa che scegli di non permettere che pensieri ridondanti occupino spazio nella tua mente senza pagare affitto. Man mano che migliori in questo, noterai un nuovo spazio mentale, una tranquillità che è sempre stata lì, nascosta sotto il rumore del pensiero eccessivo. Abbracciare l'impermanenza non è solo una tecnica, è un cambiamento verso un modo di vivere più tranquillo e presente. Focalizzati sull'impegno, non sul risultato. L'eccesso di pensiero spesso nasce dal vortice della nostra mente verso il futuro, con i suoi risultati e le sue implacabili possibilità di fallimento e delusione. Questa proiezione verso il futuro può paralizzarci dalla paura, mentre ci ossessioniamo sulle possibili conseguenze delle nostre azioni anziché sulle azioni stesse. Viviamo in una società orientata ai risultati, dove spesso il fine giustifica i mezzi e questo ci porta a credere che se l'esito è incerto, il viaggio non valga la pena. Tuttavia, una citazione stoica di Epicuro ci offre una chiara direzione. Non spiegare la tua filosofia, vivila. L'osticismo ci insegna a concentrarci sui nostri sforzi e le nostre intenzioni anziché sui risultati che non possiamo controllare. Ciò non significa che non dovremmo fissare obiettivi o aspirare a grandi cose, ma implica che il vero valore risiede nella qualità del nostro impegno, nell'integrità delle nostre azioni e nella virtù con cui percorriamo il nostro cammino. Per applicare questa tecnica, ogni volta che ti trovi a pensare eccessivamente ai risultati potenziali dei tuoi sforzi, riorienta consapevolmente i tuoi pensieri verso lo sforzo stesso. Chiediti se stai dando il massimo, se stai agendo con buona intenzione, se stai rimanendo fedele ai tuoi valori. Questo approccio consiste nell'essere completamente presente nel processo, nel mettere il lavoro e nel sapere che li finisce la tua responsabilità. Questo focus sull'impegno può liberarci dalle catene del pensiero eccessivo, permettendoci di essere nel momento presente, di dare il massimo senza l'ombra pesante di ciò che potrebbe essere, oscurando la nostra esperienza. Trasforma le nostre azioni da semplici passaggi verso un risultato in espressioni del nostro carattere e del nostro impegno. Con questo cambiamento di prospettiva, scopri che il tuo cammino non è solo un mezzo per un fine, ma un'incarnazione di vivere con uno scopo, dove ogni passo è un traguardo in se stesso. Le ultime tre strategie aprono la porta a nuove prospettive, permettendoti di sfruttare forze inesplorate, coltivare la resilienza pratica e gestire le complessità della vita con un senso di equilibrio. Prendi il controllo riorientando la tua energia. Hai mai avvertito di essere intrappolato in una spirale di e se e scenari apocalittici, ripetendo le stesse preoccupazioni una e un'altra volta fino a sentirti mentalmente esausto? È come avere molte schede aperte nella tua mente, ognuna con un video che suona a tutto volume e sembra che non riesci a metterlo in pausa. Questo multitasking mentale è una caratteristica distintiva della vita moderna, dove la pressione per tenere il passo con tutto può portare a un ciclo interminabile di pensieri eccessivi. Ma così come una scrivania disordinata ha bisogno di essere organizzata, anche una mente disordinata ha bisogno di ordine. Riorientare la tua energia mentale non si tratta solo di trovare la pace mentale, ma di riprendere il controllo e silenziare il rumore interminabile di ciò che potrebbe essere, in modo da poter apprezzare ciò che è Seneca, un altro saggio stoico, ha espresso saggezza con le sue parole dicendo. La vera felicità è godere del presente senza una dipendenza ansiosa dal futuro. Questo consiglio saggio serve come pietra angolare per prendere il controllo riorientando la tua energia per smettere di pensare eccessivamente. Inizia ancorandoti al presente, concentrati su un compito, anche qualcosa di piccolo, e canalizza la tua energia per completarlo. Questo cambiamento di prospettiva ti porta via dal vortice del e se sul futuro e ti ancori nel momento presente. L'applicazione pratica è semplice ma profonda. Partecipa a un'attività che richieda la tua attenzione completa. Può essere qualcosa di così semplice come organizzare il tuo spazio di lavoro, fare una passeggiata energica o immergerti in un libro. Queste azioni richiedono il qui e ora, non il domani o l'ieri. Allineando i tuoi pensieri con le tue azioni, non solo ti stai distogliendo, ma stai prendendo il comando di dove fluisce la tua energia mentale. Ricorda che l'osticismo non si tratta di reprimere i pensieri, ma di gestirli. Scegliendo dove investire la tua energia mentale, stai praticando una forma di disciplina mentale. L'obiettivo non è evitare completamente il pensiero eccessivo, sarebbe un'aspettativa poco realistica. L'obiettivo è riconoscere quando i tuoi pensieri non ti servono e avere gli strumenti per ridirigere essi. È come allenare un muscolo. Più eserciti questo potere di ridirezione, più forte e resistente diventa la tua mente. Scoprirai che la marea travolgente del pensiero eccessivo che una volta ti dominava può essere domata con azioni deliberate e presenza nel momento presente. Visualizza il sovrappensiero come una forza esterna, qualcosa che si insinua nella tua mente come la nebbia che si addensa in un giorno che era limpido e soleggiato. Comincia come una singola preoccupazione o idea, ma si espande rapidamente fino a travolgerti come una tempesta improvvisa che si scatena. Nell'attuale mondo, siamo continuamente bombardati da informazioni come grandine in una tempesta e le nostre menti sono piene di domande come e se e cosa succederà dopo. Marco Aurelio, filosofo stoico e imperatore, una volta disse che la felicità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri. Questa citazione ci porta alla nostra prima tecnica per contrastare il sovrappensiero, visualizzarlo come una forza esterna. Non si tratta di trasformare i tuoi pensieri in nemici, ma di riconoscere che questi pensieri invadenti non sono il nucleo di chi sei, sono come invasori della tua pace mentale. Immagina quei pensieri intrusivi come nuvole che passano sopra una maestosa montagna. Tu sei quella montagna, solida e immobile, mentre le nuvole si muovono momentaneamente intorno a te. Come puoi difenderti da questi invasori? L'osticismo ci insegna ad osservare senza coinvolgerci emotivamente. Puoi immaginare di mettere quei pensieri in una bolla e poi vederli allontanarsi da te. Questo esercizio mentale non solo riduce il loro peso, ma rafforza anche la comprensione che i pensieri sono transitori. Possono disturbare la tua pace solo se ti aggrappi ad essi e dai loro potere. Praticare questa visualizzazione crea un riflesso mentale che ti aiuta a scollegare e lasciare andare questi pensieri prima che diventino una tempesta emotiva. Man mano che diventi più abile a distinguerti da questa valanga di pensieri eccessivi, diventa più facile vedere che non sai semplicemente la somma dei tuoi pensieri. Questa distinzione agisce come uno scudo simile ai tappi per le orecchie in una folla rumorosa. È uno sforzo deliberato e continuo che si rafforza con la pratica quotidiana. Quando ti rendi conto di iniziare a pensare troppo, fermati e visualizza quel pensiero come rumore superfluo e separato dalla tua essenza. Facendo ciò, non solo ti stai proteggendo dall'eccesso di pensiero, ma stai anche reclamando il tuo territorio mentale e la tua pace, un passo alla volta. Ogni volta che pratichi questa tecnica, stai rafforzando la tua capacità di mantenere la calma e trovare serenità in mezzo al caos mentale. Crea un momento dedicato alle preoccupazioni. È comune per ogni persona sperimentare preoccupazioni che ronzano nella mente, persistenti come il costante ronzio di un frigorifero. A volte sono appena percettibili, ma sempre presenti. Queste preoccupazioni possono prendere il sopravvento sui nostri pensieri in qualsiasi momento, spesso quando cerchiamo di concentrarci sul lavoro, di goderci del tempo con gli amici o persino quando cerchiamo di dormire. La nostra mente sembra essere un palcoscenico, con queste preoccupazioni come attori indesiderati che non si danno pace. Tuttavia, riflettiamo su questa saggezza dello stoico epiteto. Se vuoi migliorare, si contento di essere considerato stupido e sciocco. Anche se potrebbe sembrare fuori luogo, è un coraggioso promemoria di dare priorità alla nostra serenità mentale sopra l'ansia di sembrare competenti o astuti. Dedicare un momento specifico alle preoccupazioni è una strategia per dare loro un momento in scena, ma solo come un bis, non come l'atto principale. Ogni giorno, riserva un tempo specifico, forse 20 minuti nel pomeriggio, per concentrarti esclusivamente su di esse. Durante questo periodo designato, approfondisci le tue preoccupazioni, esplorale, comprendi le loro radici e persino annotale. Cosa ti preoccupa davvero? Quanto è probabile che si verifichino questi scenari? Cosa puoi fare al riguardo? Spesso, questa sessione focalizzata rivela che molte delle nostre preoccupazioni sono come ombre, apparentemente grandi ma senza molto sostegno. Affrontandole direttamente, insegni anche alla tua mente che c'è un momento e un luogo per preoccuparsi e non è durante tutto il giorno, tutti i giorni. Poi, quando il periodo dedicato alle preoccupazioni è concluso, lasciale andare e passa oltre. Compartmentalizzando in questo modo, puoi riprendere il controllo della tua giornata. L'obiettivo non è smettere di preoccuparsi completamente, perché sarebbe impossibile, ma contenere le preoccupazioni riduce il loro impatto sulla tua vita. Questa tecnica è come mettere in ordine la tua stanza mentale. Posiziona i pensieri dove devono stare e goditi la tranquillità dello spazio ordinato. È probabile che scoprirai che le preoccupazioni perdono il loro potere quando non si permette loro di vagare liberamente e la vita diventa un po' più leggera e un po' più piacevole. Decomprimi i pensieri travolgenti in passi concreti. Quando l'eccesso di pensiero ci colpisce, può sentirsi come se portassimo il peso di una roccia gigante, le dimensioni delle nostre preoccupazioni sembrano equipararsi al peso del mondo intero e rimaniamo intrappolati sotto la densa nube dei nostri stessi pensieri. Questa sensazione non è unica, è una condizione umana condivisa, aggravata in un mondo che richiede prestazioni elevate in tutte le aree della vita, lavoro, relazioni, crescita personale e status sociale. La pressione per eccellere può paralizzarci con indecisione e paura. Come guida attraverso questa nebbia di eccesso di pensiero, Marco Aurelio una volta disse, l'ostacolo per l'azione diventa l'azione, ciò che si frappone sul tuo cammino diventa il tuo cammino. Questa profonda visione è la base della nostra quinta tecnica, trasformare i pensieri travolgenti in passi concreti. Quando la tua mente è pervasa da una grande preoccupazione o un problema complesso, il trucco sta nel dividerlo in parti più piccole e gestibili. Chiediti, qual è il prossimo passo che posso fare? Non tutti i 5, 10 o 20 passi avanti, ma solo il prossimo. Agire in un solo passo può sembrare banale, ma è un potente antidoto contro l'eccesso di pensiero. Concentrandoti su un'azione, canalizzi l'energia dalla preoccupazione all'azione. È come slegare un grande nodo lavorando su un piccolo groviglio alla volta. Non stai ignorando la complessità delle tue preoccupazioni, ma stai navigando attraverso di esse con scopo e precisione. La bellezza di questa tecnica risiede nella sua semplicità ed efficacia. Ogni piccolo passo che fai accumula slancio e guardando indietro, ti rendi conto che quella roccia di preoccupazione è ora un mucchio di ciottoli. Hai progredito passo dopo passo. Questo metodo insegna pazienza, resistenza e fiducia nella capacità di affrontare le sfide di petto. Improvvisamente, ciò che sembrava insormontabile viene superato e l'eccesso di pensiero si trasforma in un sentimento di realizzazione e chiarezza. Cerca la saggezza al di fuori di te stesso. Questo è fondamentale quando ci troviamo intrappolati nel vortice del pensiero eccessivo. Spesso le nostre menti diventano un intricato labirinto, dove ogni sforzo per trovare una via d'uscita sembra condurci a una maggiore confusione e sovra pensiero. Cerchiamo di risolvere un puzzle solo per scoprire che i pezzi sembrano moltiplicarsi all'infinito, lasciandoci intrappolati in un ciclo senza fine. Questa essenza dell'eccesso di pensiero è un ciclo che inizia e termina all'interno dei confini dei nostri stessi pensieri, spesso senza offrirci una chiara e definitiva via d'uscita. Un uomo venerato per la sua saggezza ci ha dato un consiglio prezioso. Consulta il tuo amico in tutto, specialmente in quegli affari che ti riguardano personalmente. Il suo consiglio può essere utile dove il tuo amore proprio potrebbe influenzare il tuo giudizio. Queste parole semplici racchiudono una profonda verità che può fungere da bussola nelle acque turbolente dell'eccesso di pensiero. Il principio stoico ci insegna che esplorare punti di vista diversi dai nostri può interrompere il ciclo infinito di pensieri ossessivi. Questa saggezza può derivare dall'amicizia di qualcuno con una prospettiva fresca, dal consiglio obiettivo di un mentore o dalla saggezza eterna rintracciabile nella letteratura. Per adottare questo principio nel mondo moderno, è fondamentale cercare l'opinione di individui in cui si ha fiducia e rispetto. Questi potrebbero essere membri del nostro stretto cerchio sociale o professionisti con l'esperienza necessaria per offrire orientamento. Condividere i nostri pensieri con loro non solo ci offre chiarezza mentre esprimiamo ciò che passa per la nostra mente, ma apre anche la porta a ricevere un feedback obiettivo che potremmo avere trascurato mentre eravamo immersi nei nostri pensieri. Questa pratica non solo offre soluzioni pratiche, ma ci ricorda anche il valore insostituibile della connessione umana. Quando condividiamo il peso delle nostre preoccupazioni con gli altri, spesso diventano più leggere. Questo non indica debolezza, ma piuttosto un riconoscimento della forza collettiva che possediamo come esseri sociali. Ci permette di lasciare che la saggezza degli altri sia la guida che ci conduce fuori dall'oscurità del pensiero eccessivo. Ogni conversazione ci aiuta a risolvere il puzzle, non perché i problemi diventino meno complessi, ma perché non stiamo più cercando di risolverli da soli. Nella connessione con gli altri, troviamo il sostegno necessario per affrontare anche le sfide più intricate e, insieme, scopriamo soluzioni che forse non avremmo potuto vedere da soli. Praticare il disagio volontario è una strategia potente per liberarci dal ciclo di sovrappensiero che ci intrappola quando affrontiamo situazioni scomode o cambiamenti nella vita. Le nostre menti tendono a creare scenari immaginari, cercando di anticipare ogni possibile risultato e preparandosi per ogni disagio immaginabile. Questa costante rumination mentale può essere esaustiva e ci tiene intrappolati nella nostra zona di comfort, una sorta di prigione mentale dove la crescita personale si arresta. Affrontare consapevolmente il disagio volontario ci permette di addestrare le nostre menti a gestire l'incertezza e a ridurre il sovrappensiero. Si tratta di compiere piccole azioni scelte che ci tirano fuori dalla nostra zona di comfort, insegnandoci resilienza e adattabilità nel processo. Per integrare questa pratica nella vita moderna, puoi iniziare con qualcosa di piccolo come fare una doccia fredda, dormire senza cuscino o camminare invece di guidare. Fai qualcosa che disturba la tua solita routine e siediti con qualsiasi sentimento che emerga, senza giudicarti. È importante comprendere che questa pratica non ha l'intenzione di punirti. Piuttosto, si tratta di dimostrarti che il disagio non è così spaventoso come lo dipinge la tua mente iperanalitica. Il disagio volontario ha un effetto paradossale. Esponendoti regolarmente all'incomodo, l'ignoto diventa familiare e la tua mente impara a tranquillizzarsi. Diventi meno reattivo al cambiamento e ti concentri di più su ciò che puoi controllare, le tue risposte e le tue attitudini di fronte alle situazioni difficili. Questo potente cambiamento non solo riduce il sovrappensiero, ma costruisce anche un nucleo interno di forza e resistenza che non è influenzato dalle fluttuazioni naturali delle circostanze della vita. Praticando il disagio volontario, diventi più capace di affrontare sfide, accettare l'ignoto e trovare la pace in mezzo all'incertezza. Con il tempo, questa pratica ti offre una sensazione profonda di fiducia e forza interiore in tutte le sfaccettature della vita. Riflettere sulla fugacità della vita, quando ci ritroviamo intrappolati nella tempesta del pensiero eccessivo, spesso è perché ci siamo troppo concentrati sui dettagli minutati delle nostre esistenze, perdendo di vista il quadro generale. I nostri pensieri diventano un groviglio di e se succede questo, o e se quello non funziona. Facendoci perdere la prospettiva. Questa visione microscopica può far sembrare anche i problemi più piccoli insormontabili, consumando il nostro spazio mentale ed energia. Seneca una volta scrisse, non ci è stata data una vita breve, ma noi la rendiamo breve, non siamo carenti, ma sprecanti ciò che abbiamo. Questo richiamo ci incoraggia a meditare sulla natura effimera della nostra esistenza. Ogni momento dedicato al pensiero eccessivo è un momento non vissuto appieno, una porzione di vita che non abbiamo assaporato. L'osticismo ci invita a chiederci se le nostre preoccupazioni avranno un impatto significativo nella linea temporale della nostra vita. Per contrastare il pensiero eccessivo, è essenziale fare un passo indietro regolarmente e considerare la nostra vita nel suo insieme, riconoscendo che molte delle cose che occupano i nostri pensieri sono transitorie e a lungo termine insignificanti. Quando ci sentiamo sopraffatti dai nostri pensieri, fermiamoci e ricordiamoci che la vita è fugace. Dobbiamo chiederci se quel momento di pensiero eccessivo vale davvero il tempo limitato che abbiamo. Riflettere sulla fugacità della vita ci aiuta naturalmente a dare priorità alle nostre esperienze e preoccupazioni. Questo non è un invito a diventare cupi o indifferenti, ma piuttosto a valorizzare il presente e concentrarci su ciò che conta davvero. È un potente antidoto contro il pensiero eccessivo perché allinea la nostra attenzione con il presente, la nostra gratitudine per il qui e ora, e riduce il peso delle ansie focalizzate sul futuro. Consentire alla natura effimera della vita di non essere una fonte di ansia, ma piuttosto un telaio su cui dipingere con i colori vivaci della presenza e della vita appagata. Se il nostro video ti ha interessato, ti preghiamo di mettere mi piace, iscriverti al canale e commentare cosa ne pensi, così YouTube saprà che questo tipo di contenuto è utile per persone come te e potremo continuare a creare video simili in futuro.